Musica Amici di Telemolise, bentrovati. Ultima edizione del nostro telegiornale. Torniamo a parlare in apertura di editoria. La grave emergenza legata alla crisi del settore resta sotto i riflettori dopo il preannuncio da parte di alcune aziende di decine di licenziamenti. Sul tema è intervenuto l'ex governatore Michele Iorio che ha chiarito il senso della interpretazione autentica impugnata dal governo su indicazione della prefettura di Campobasso e ha annunciato una nuova legge regionale per il settore dell'informazione al fine di eliminare sperequazioni e dubbi interpretativi. Ascoltiamo Giovanni Minicozzi. La profonda crisi che attanaglia il settore dell'informazione non fa prigionieri e diverse aziende importanti hanno preannunciato decine di licenziamenti che scatteranno nelle prossime settimane. Nel silenzio più o meno tombale calato sul grave problema, condito dall'immobilismo delle istituzioni preposte alla salvaguardia del diritto dei cittadini ad essere informati e alla tutela dei posti di lavoro, regione e commissario per il governo in primis, spiccano le iniziative a sostegno della stampa avviate con determinazione dall'ordine dei giornalisti e dall'asso stampa. Il soggetto scatenante di questa vicenda è la prefettura e quindi la prefettura deve ascoltare le parti in causa. Noi abbiamo ricordo, abbiamo inoltrato al governo e ai ministeri competenti un corposo faldone con delle contradduzioni che vanno nella posizione opposta della impugnazione fatta dal governo e quindi noi chiediamo di interloquire per innanzitutto esporle e poi perché no, la prefettura può farle proprie e inviarle anche al governo, però la prefettura deve mettere sul tavolo, attorno a un tavolo i soggetti che compongono questa vicenda. Quindi io credo che mi aspetto che il prefetto agisca di conseguenza. La sostampa aveva già avuto un incontro in prefettura in passato proprio sulla situazione di crisi dell'editoria. E mi ricordo questo era uno di quei punti dolenti, cioè noi contestammo alla regione perché era presente l'allora presidente Frattura e presente anche l'attuale prefetto, proprio questo punto delicato dove noi chiedemmo Ma scusate, ma perché avete fatto e continuate ad avere una legge che ostacola l'accesso a chi ha più di 40.000 euro di contributo ottenuto già dalla pubblica amministrazione, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra? Anche il consiglio direttivo dell'Ordine dei giornalisti del Molise è intervenuto a sostegno della categoria. Il presidente Pinapetta ha incontrato il prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, la quale ha ribadito che rientra nelle sue prerogative dare tempestiva informazione alla presidenza del Consiglio dei Ministri su eventuali ipotesi di illegittimità di una legge regionale. Sarà, ma resta il giallo, su perché la stessa Maria Guia Federico, da quando è dato sapere, non abbia segnalato le illegalità contenute nella legge relativa alla prima interpretazione autentica che ha sanato, con data retroattiva, situazioni eclatanti come la mancanza del DURC e addirittura la compensazione di fatture da centinaia di migliaia di euro ammessa tra società riconducibili allo stesso proprietario. Il prefetto di Campobasso farebbe bene a chiarire questa anomala e discriminante circostanza per salvaguardare innanzitutto la credibilità dell'istituzione che rappresenta. E nell'ultima riunione il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Giornalisti del Molise, come comunicato in una nota dai firmatari Antonio Lupo e Domenico Bertoni, ha approvato una delibera sulla legge per l'editoria. Sentiamo in proposito Tonino Danese. Il settore editoriale molisano è in crisi, posti di lavoro persi, molti in bilico, perdita dei requisiti da parte del settore televisivo molisano in virtù delle nuove leggi, lo scenario e le prospettive sono drammatiche, con chiusure di tv, giornalisti e tecnici a casa e una mannaia sul pluralismo dell'informazione. Alla luce di tutto questo il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Giornalisti del Molise ha approvato una proposta di delibera firmata dai consiglieri Antonio Lupo e Domenico Bertoni. Sblocco immediato dei fondi destinati ai bandi regionali già espletati, superamento in tutte le sedi istituzionali degli ostacoli che ad oggi, nonostante la legislazione vigente e da questa riconosciuti come beneficiari della normativa regionale, impediscono ad alcuni organi di informazione di accedere alle misure economiche previste dalla legge regionale 11 2015. Questi i due punti, i più importanti dei cinque della proposta di delibera approvata. Negli altri, ha spiegato Antonio Lupo, si ipotizzano variazioni del dettato normativo che mirano al raddoppio dello stanziamento e misure che tengano conto delle differenti tipologie editoriali. Da un lato tv e radio, dall'altro giornali e online. Le variazioni e le integrazioni potranno essere inserite nel DEF, il documento di economia e finanza, che tra poco andrà in discussione in Consiglio regionale. Concretamente, la delibera approvata impegna formalmente l'ordine dei giornalisti ad adoperarsi subito affinché vengano attuate tutte le iniziative per assegnare i fondi alle aziende già riconosciute come beneficiari. Inoltre, l'ordine rappresenterà in tutte le sedi istituzionali, con forza e fermezza, hanno detto ancora Lupo e Bertoni, un dato che ormai è sotto l'occhio di tutti. Il destino delle aziende editoriali, dei lavoratori e delle loro famiglie non può rimanere appeso ai tempi della burocrazia. Ma questa convinzione deve appartenere prima a noi, consiglieri dell'ordine, se intendiamo provare a convincere gli altri. Nel corso dei lavori hanno fatto sapere i due consiglieri regionali. Dell'ordine dei giornalisti qualcuno ha ipotizzato di lasciare intanto le cose come stanno per rinviare ogni decisione a indagini di mercato, incontri da promuovere nelle redazioni e all'esito finale dell'azione di impugnativa della prefettura di Campobasso. Lupo e Bertoni hanno replicato che urge agire immediatamente, senza aspettare per evitare l'irreparabile. La delibera è stata approvata col voto favorevole dei consiglieri Domenico Bertoni, Antonio Lupo, Anna Maria Di Matteo e Sergio Di Vincenzo. Hanno votato contro il presidente Pinapetta e i consiglieri Alfonso Sticca ed Enzo Luongo. Si è astenuta la segretaria Marcella Tamburello. Assente il consigliere Giovanni Cannarsa, che non è più vicepresidente, essendosi dimesso. Intanto, in merito al servizio appena andato in onda, che si basa su quanto affermato in una nota inviata alla stampa dai consiglieri Antonio Lupo e Domenico Bertoni, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Pinapetta, ha chiesto una rettifica. Contesta nello specifico la frase in cui si dice che nel consiglio direttivo dell'Ordine è passata la proposta dell'ex presidente Lupo. Petta, in sostanza, sostiene che non è vero che la proposta dei consiglieri Lupo e Bertoni sia stata approvata, non è vero che qualche consigliere abbia proposto di rinviare le decisioni all'esito finale dell'impugnativa avanzata dal governo. Non è vero ancora che qualche consigliere si sia astenuto. A onore di verità, ha evidenziato Pinapetta, nessuna proposta è stata approvata ieri sera. E' inoltre stato impedito al presidente, per mancanza del numero legale in seguito all'abbandono dell'aula da parte dei consiglieri Lupo, Bertoni, Di Matteo e Di Vincenzo, di mettere ai voti la proposta del presidente Petta. Proposta che prevedeva lo sblocco immediato dei fondi, l'ampliamento della dotazione finanziaria, la richiesta al presidente Toma di individuare un percorso immediato per l'abrogazione del punto 3 della legge regionale numero 11 2015. L'ordine, intanto ha concluso il presidente Pinapetta, continuerà nella strenua difesa del settore dell'editoria, individuando anche ulteriori percorsi di impegno. E' a stretto giro la controreplica di Antonio Lupo, il quale ha specificato che l'affermazione che nessuna proposta è stata approvata è falsa. La nostra proposta, ha detto, è stata votata e approvata a maggioranza. D'altra parte ha concluso, ai sensi del regolamento interno dell'ordine dei giornalisti, ogni riunione del direttivo viene registrata, per cui basta sbobbinare la registrazione. E adesso cambiamo argomento. La politica con le amministrative in programma a Campobasso, primo incontro ufficiale del centrodestra che si è dato appuntamento al 25 marzo. In quell'occasione sarà pronta la rosa dei candidati a sindaco. Ascoltiamo Giovanni Di Tota. Un candidato per ogni partito della coalizione, ma poi anche i movimenti civici avranno diritto di proporre un proprio nome. E' con questo impegno che si è sciolto il primo tavolo del centrodestra che si è svolto a Campobasso, con Forza Italia, rappresentata da Giuseppe Santone, l'Udc con Mimmo Izzi e Salvatore Micone, Filoteo Di Sandro per Fratelli d'Italia, Paola Matteo e Gianluca Cefaratti di Orgoglio Molise, Alberto Tramontano per la Lega e i popolari con Fabio Cofelice. E' stata ribadita la necessità di individuare un candidato condiviso nel minor tempo possibile, un nome che sia espressione del territorio, ma anche di un metodo frutto di un confronto aperto e democratico. Qualcuno, i popolari con maggiore vigore, ha chiesto le primarie sia per Campobasso che per Termoli. Il 25 marzo è stata la prima decisione. I gruppi citati, allargati anche alle liste civiche che aderiscono al progetto del centrodestra, torneranno in riunione e in quella sede ognuno proporrà il proprio candidato alla carica di sindaco. La sintesi verrà poi esercitata dal tavolo regionale del centrodestra. Per il momento la consegna sui nomi è quella del massimo silenzio. Quelli già usciti in queste settimane sono più o meno quelli che circolano nell'ambiente vicino alla coalizione. Il presidente dell'ACEM Corrado Di Niro, Nunzio Luciano, presidente della Cassa Forense e uno dei fondatori di Forza Italia in Molise, i consiglieri uscenti Tramontano e l'ex assessore Aldo De Benedittis. Michele Durante ha voluto fare dei chiarimenti. La composizione della segreteria regionale del PD non abbiamo accettato mortificazioni, ha detto, e il 46% del partito non ha condiviso le scelte fatte da Facciolla. Insieme ai 20 rappresentanti della sua lista eletti nell'Assemblea, non ho accettato la proposta di Facciolla di partecipare alla segreteria. Durante ha detto di non aver condiviso la scelta del neosegretario di prendere tutto, a partire dalla presidenza dell'Assemblea attribuita da Lete, nel segno ha evidenziato del ritorno al passato contrario a ogni forma di cambiamento. In secondo luogo, ha detto ancora, Durante ho ritenuto la proposta di Facciolla di partecipare alla sua segreteria mortificante, proprio in relazione al risultato ottenuto alle primarie. La mia e la nostra non è esigenza di ricoprire ruoli, ha sottolineato, ma volontà di alimentare un confronto chiaro e costruttivo. Nel PD ho verificato che anche Stefano Buono non ha aderito alla proposta di entrare nella segreteria e quindi, ha concluso Michele Durante, politicamente rileva il fatto che oltre il 46% del Partito Democratico del Molise, così come venuto fuori dalle primarie, non partecipa alla segreteria e alle sue scelte. Oggi seduta del Consiglio regionale a Palazzo d'Aimmo, approvata dall'Aula una mozione proposta dal Movimento 5 Stelle, che prevede il finanziamento di 10 borse di studio a favore di specializzanti in medicina in Molise, approvato all'unanimità anche un ordine del giorno del centrodestra, avente ad oggetto la esclusione della centrale termoelettrica di Pozziglia Rambiente dall'elenco degli inceneritori previsto dal decreto legislativo Sblocca Italia. Nuovo esposto dell'Associazione Caponnetto contro la realizzazione dell'8-0, la strada che dovrebbe collegare la superstrada Isernia-Castell di Sangro al bivio di pesche. L'Associazione chiede nuove indagini e l'intervento del Governo. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Far riaprire le inchieste delle procure di Roma e Campobasso, chiedendo nuovi approfondimenti investigativi sulle decisioni e gli atti legati alla realizzazione dell'8-0, portare la vicenda all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Infrastrutture Toninelli. Sono i due obiettivi che intende raggiungere l'Associazione Caponnetto, ancora una volta in campo con un esposto per contrastare il progetto, che prevede un collegamento tra la superstrada Isernia-Castell di Sangro e il bivio di pesche. Questa opera non ha alcuna utilità pubblica, hanno più volte sottolineato coloro che si oppongono all'8-0 ed è ritenuta dannosa sotto il profilo ambientale e paeseaggistico, interferendo tra l'altro con le sorgenti di San Martino. Ma anche sotto il profilo erariale ci sono delle perplessità, visto che il costo già si attesta a circa 4 milioni di euro per la sola progettazione, mentre si arriva a circa 170 milioni, ha ribadito l'Associazione Caponnetto, per realizzare appena 5 chilometri di strada con ben 7-8 viadotti e due gallerie. Ne convince la giustificazione, secondo la quale l'opera servirebbe a velocizzare il collegamento tra Isernia-Castell di Sangro e a decongestionare il traffico su Isernia Nord. Venerdì pomeriggio, intanto, il Comitato non l'8-0 organizzerà un incontro all'ex lavatoio di Isernia proprio per parlare del documento indirizzato alle autorità nazionali, regionali e locali, affinché ridiscutano la scelta di indirizzo politico di un'opera ritenuta inutile e di valutare al tempo stesso l'ipotesi di annullare il procedimento sulla base delle presunte illegittimità evidenziate dal Comitato. Fare un fronte comune tra i sindaci della zona per mantenere le prestazioni specialistiche del Santimoteo è quello che è emerso al termine dell'Assemblea pubblica che si è svolta a termoli promossa dal Comitato Santimoteo. Chiediamo, ha detto il Presidente del Comitato Nicola Felice, il rispetto del territorio mantenendo le specialistiche esistenti all'ospedale di Termoli. Presente all'incontro anche il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo della Porta, che ha chiesto al sindaco Sbrocca di fare fronte comune. Sarà predisposto un documento con una serie di proposte perché il Basso Molise non subisca altri tagli e ridimensionamenti. Molise e Abruzzo tra le peggiori regioni italiane per i servizi su rotaia. Ricordarlo è la CGL commentando il rapporto pendolari a 2018 che mette in risalto tutti i problemi delle ferrovie regionali. Niente investimenti, tagli ai servizi, materiale rotabile, vecchissimo, elettrificazione solo per il 20%. Inoltre la tratta Campobasso-Roma è risultata tra le 10 peggiori d'Italia. Ascoltiamo Marta Martino. Italia è al primo posto tra le 10 nazioni più importanti d'Europa per infrastrutture, strade e treni. Ma in Molise ed Abruzzo la situazione è tragica, specie per il trasporto su rotaia. Il livello è talmente insopportabile da mettere in discussione quel diritto alla mobilità dei cittadini, sancito dalla nostra Costituzione, scrive la CGL Abruzzo e Molise, dopo la diffusione dei dati di lega ambiente del rapporto pendolari a 2018. Dallo studio sono emersi due aspetti fondamentali, che la rete ferroviaria in Italia resta un bisogno primario per i cittadini che si espostano e che dove si realizzano gli investimenti i pendolari prendono il treno regolarmente. Cosa che non avviene in Molise e in Abruzzo, dove gli investimenti su rotaia sono praticamente nulli, mentre in Italia si osserva un 8% di viaggiatori in più, la nostra regione ha toccato un meno 11% e l'Abruzzo un meno 39% in soli 8 anni. In Molise è invece al primo posto per Italia i servizi registrati nello stesso arco temporale, ben il 33% in meno, su cui incide tantissimo la chiusura della tratta Termoli-Campobasso. L'Abruzzo, con un meno virgola 9%, si colloca sempre ai primi posti di questa classifica davvero poco nobile. Fa davvero riflettere, rimarca la CGL, che in queste stesse regioni, nelle quali si registrano sensibili tagli ai servizi e cari dei viaggiatori, si registrino anche paradossali aumenti tariffari, più 25% per l'Abruzzo e più 9% per il Molise. Altro aspetto inquietante è il materiale rotabile, ormai vecchissimo, a età media 17 anni, ma questo è un problema comune a tutto il sud. Il Molise non ha investito su motrici diesel perché si sta muovendo verso l'elettrificazione della rete, ma questo a parole, perché nei fatti i chilometri elettrificati sono soltanto 60, su un totale di 265, quindi poco più del 20%. Un altro problema rilevante è l'alta incidenza dei chilometri a binario semplice o unico. Per concludere questa carrellata di brutte figure per la nostra regione, dice la CGL, c'è da segnalare che la tratta Campobasso-Roma è stata inserita tra le 10 peggiori d'Italia dalle gambiente pendolaria, 244 chilometri che vedono una concentrazione di problemi nei primi 75, privi di elettrificazione e a binario unico. Basti pensare che per collegare Campobasso ad Isernia occorrono 53 minuti con una velocità media di 55 chilometri orari su una linea sostanzialmente vuota. Nella classifica dello scorso anno figurava invece la Pescara-Roma, che ancora oggi, secondo il sindacato, continua a rappresentare comunque una tra le peggiori linee ferroviarie presenti nel nostro paese. Nessun declassamento della questura di Campobasso, lo conferma il senatore del Movimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, che ha definito infondate le notizie che riportano il pericolo di un ridimensionamento della struttura. Del capoluogo non c'è alcun rischio di cambiamento per i cittadini, ha ribadito il senatore Ortis, la cui sicurezza non verrà messa a repentaglio dalle scelte del nostro governo, che anzi potenzierà il personale delle questure di Campobasso e Isernia con 81 nuovi agenti. Hanno scoperto i vandali che durante le vacanze di Natale avevano danneggiato la statua di Iacovitti lungo il corso nazionale di Termoli. Ora comandante e vicecomandante della Polizia Municipale sono indagati per rivelazione del segreto istruttorio. La notizia ha lasciato la comunità molto perplessa. Ascoltiamo Manuela Iorio. Hanno scoperto i vandali che durante le vacanze di Natale avevano danneggiato la statua di Benito Iacovitti lungo corso nazionale. Ora Antonio Persic e Pietro Cappella, rispettivamente comandante e vicecomandante della Polizia Municipale di Termoli, sono indagati. L'accusa per loro è rivelazione del segreto istruttorio in relazione alla conferenza stampa che i due vigili urbani in accordo con il Comune tennero il 21 gennaio scorso. A distanza di quasi un mese dall'individuazione dei vandali, per la precisione un minorenne fu l'autore materiale in compagnia di altri due amici. La notizia ha sorpreso tutti anche perché l'incontro con i giornalisti aveva avuto più che altro una funzione sociale, mettendo in guardia i potenziali vandali di Termoli da ripetere azioni di danneggiamento del patrimonio pubblico, considerando che le telecamere presenti sulle strade spesso e volentieri danno una grossa mano alle indagini per risalire responsabili. Contemporaneamente due funzionari avevano lanciato un messaggio civico ai giovani termolesi ad avere rispetto del patrimonio e a riflettere sulle conseguenze penali poi del gesto. Nella circostanza non vennero forniti elementi identificativi del vandalo perché minorenne le immagini dimostrate vennero criptate proprio per impedire il riconoscimento dello stesso, che tra l'altro di fronte agli inquirenti poi si era mostrato pentito del gesto. Un gesto che aveva sollevato un'onda di indignazione in città, la stessa che corsa sul filo dei social quando si è diffusa al contrario la notizia dell'indagine su Persic e Cappella. È stata la procura presso il Tribunale dei Minori a individuare il reato e inviare gli atti alla procura di Larino, che dopo un mese e mezzo circa ha notificato ai due agenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, formalizzando nei loro confronti l'accusa di rivelazione del segreto istruttorio. Persic e Cappella sono sconvolti e mortificati, questo il commento del loro difensore Gio Mileti. C'era un'indagine su di loro e non sono nemmeno stati ascoltati, ha rincarato la dose l'avvocato, che ora ha fatto richiesta di interrogatorio depositando anche una memoria difensiva. titolare dell'inchiesta è il procuratore capo Isabella Ginefra. Dopo quattro giorni è tornata l'acqua nelle case di Poggio Sannita. I tecnici di Moliseacqua hanno infatti individuato e riparato un guasto alla rete idrica a ridosso della Fondovalle del Verrino. Oggi le scuole, chiuse proprio per la mancanza di acqua, sono state regolarmente riaperte. Intanto il sindaco del paese Alto Molisano, Giuseppe Orlando, ha presentato un esposto denuncia ai carabinieri della compagnia di Agnone al fine di accettare eventuali responsabilità anche di tipo omissivo. Non lasciare nessuno indietro. Questo è il tema scelto per il 2019 in occasione della giornata mondiale dell'acqua, celebrata con qualche giorno di anticipo all'Istituto Biotecnologico Pertini di Campobasso. Saperi e buone pratiche trasmesse dagli studenti agli altri studenti. Una metodologia innovativa che mira a rendere sempre più protagonisti gli allievi. Ascoltiamo Fabiana Abbazia. Istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, la giornata mondiale dell'acqua intende promuovere una certa sensibilità verso l'importanza di un bene prezioso da tutelare e salvaguardare, ma soprattutto vuole accendere i riflettori sull'impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla disponibilità della risorsa idrica. Tra gli eventi promossi in tutto il mondo in occasione del prossimo 22 marzo rientra anche quello dell'Istituto Biotecnologico Pertini di Campobasso. Interventi e video divulgativi per un incontro dove gli indiscussi protagonisti sono stati gli studenti. Conoscenze e buone pratiche apprese durante esperienze fuori regione che gli allievi della Quinta E hanno messo a disposizione delle classi seconde della scuola. I ragazzi lavorano sulle matrici ambientali e lo hanno fatto anche con modalità nuove attraverso degli hackathon a cui hanno partecipato in Italia negli anni precedenti. Il Pertini è la scuola di futuro del tentativo di utilizzare metodologie nuove quali gli hackathon e quindi questi ragazzi raccontano queste metodologie a cui hanno vissuto trasferendo l'esperienza ai ragazzi che hanno qualche anno in meno. Ma sicuramente la consapevolezza sulla gestione utile e parsimoniosa delle risorse idriche e della lotta ai cambiamenti climatici è un qualcosa che deve essere allargato a tutti. Giornata mondiale dell'acqua. Darete anche dei consigli pratici poi per vivere non sprecando? Beh certo, assolutamente. Soprattutto cercando di far capire quanta acqua si spreca inconsapevolmente. Basta pensare che con una doccia di 5 minuti se ne vanno già quasi 50 litri d'acqua, che non è poco. Quindi magari dando dei dati realistici potremo cercare di far capire effettivamente dove risparmiare e dove effettivamente è necessario utilizzarla. Non lasciare nessuno indietro il tema 2019 per la giornata mondiale dell'acqua, celebrata a distanza di solo qualche giorno dalla manifestazione che ha visto scendere in piazza gli studenti di tutto il mondo. Un'onda verde che ricorda come davvero alle nuove generazioni si è affidato il delicato compito di tutelare e preservare l'ambiente. Un'iniziativa da cui prendere slancio per mettere in campo la vostra capacità di costruire il futuro. E' stato infatti il messaggio del dirigente scolastico Umberto Di Lallo agli studenti del Pertini di Campobasso. E' stato presentato a Campobasso il quaderno degli eventi del Conservatorio Operosi. Una serie di eventi, alcuni dei quali già sono stati effettuati e che proseguiranno fino a ottobre. Intanto si aspettano interventi sulla struttura del Conservatorio e sull'auditorium. I fondi è stato spiegato. Ci sono. Sentiamo Tonino Danese. Diversi e di qualità gli eventi che il Conservatorio Operosi di Campobasso ha messo in campo fino ad ora. Altri sono in programma fino a ottobre a partire dai concerti di primavera per arrivare a quelli d'autunno. Il quaderno degli eventi è stato illustrato dal direttore del Conservatorio, il maestro Lelio Di Tullio. Gli appuntamenti sono tantissimi, sono circa 120, più altri 60 seminari interni del Conservatorio. Quindi arriviamo a 180 appuntamenti. Lo spettacolo più importante che faremo è quello del balletto in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Metteremo in scena Pulcinella di Stravinsky sarà il 19 e il 20 di maggio. Poi ci sono i festival, il festival percussioni, il festival dei misteri e altre manifestazioni internazionali a cui noi aderiamo, come Back in the Subwest che ci sarà sabato prossimo alla stazione di Campobasso, e l'International Jazz Day che ci sarà il 30 di aprile in cui coinvolgeremo oltre al Conservatorio anche alcuni dei locali in cui si fa musica dal vivo. Altro appuntamento molto importante a ottobre, lo avremo il 3-4 ottobre, la sezione fisarmonica del premio delle arti, il premio che organizza il Ministero. Importanti le collaborazioni anche internazionali che il Perosi ha intrapreso. L'accordo con il Conservatorio di Pechino che ci ha fatto entrare in un'organizzazione internazionale insieme ad altri 20 conservatori italiani e alcune delle scuole più importanti di musica degli Stati Uniti, Germania e quant'altro, quindi scuole di musica di 5 continenti, che porteranno qui un numero nutrito di studenti cinesi a partire dall'anno accademico 2021. Una struttura, quella del Conservatorio, che ha i suoi anni e su cui urge intervenire, così come sull'auditorium in centro che il Comune ha concesso incomodato d'uso al Perosi. Per il primo problema, cioè quello della situazione dell'istituto, abbiamo chiesto un primo finanziamento al MIUR che in corso di istruttoria, ieri proprio siamo stati a Roma e ci hanno detto che praticamente stanno per nominare la Commissione che dovrà valutare questi progetti. Insomma, dovrebbe sapersi qualcosa prima dell'estate. Per quanto concerne invece il progetto dell'auditorium, anche lì abbiamo chiesto un finanziamento di circa 2 milioni di euro, se non sbaglio, per l'ultimazione dello stesso. Anche per questo deve essere nominata la Commissione per il vaglio del progetto. Io mi auguro che mi hanno assicurato la regolarità formale dei progetti, quindi quantomeno il primo step lo abbiamo superato. Ora mi auguro che delle logiche particolari non facciano sì che il Molise o Campobasso vada dietro a qualche città che abbia la voce più forte. Presentato ai Sernia nella cornice della Biblioteca Comunale Romano, il libro Arsenale di Memorie, scritto a quattro mani da Ida di Anni e Matilde Iaccarino, due docenti di scuola superiore che raccontano le vite degli altri, in particolare le vite delle donne scomparse e a loro più care. La madre per Matilde Iaccarino, la zia per Ida di Anni, il volume stampato per i tipi della Molisana Volturnia, edizioni di Tobia Paolone. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. Arsenale di Memorie, più che un libro di ricordi e un mosaico di fotografie di vite vissute, le vite degli altri, osservate da chi è stato accanto a loro come figlia, nipote o cugina. Un affresco di esperienze familiari quotidiane, sentimentali e psicologiche, che suona come una musica d'insieme, la musica delle sensazioni uniche e irripetibili che esprime ogni famiglia quando è pervasa dall'amore e dall'affetto. Arsenale di Memorie, scritto da Ida di Anni e Matilde Iaccarino ed edito dalla Molisana Volturnia Edizioni di Tobia Paolone, è stato presentato nella Biblioteca Romano di Isernia con l'intervento delle due autrici e di Pasquale Di Bello, che ha curato la prefazione dell'opera. Il volume è diviso in due parti, in quella scritta dalla Iaccarino, quest'ultima racconta il parallelismo di due vite vissute una accanto all'altra, la sua e quella della madre. È un racconto della storia d'amore tra me e mia madre, quindi a partire dall'inizio degli anni 70 ripercorro 40 anni di vita dell'Italia, del Sud, di Napoli, di me e di mia madre. Quindi sono tutti i ricordi che sono nel libro, sono i ricordi importanti che ho messo insieme dopo la morte di mia madre e quindi ho sentito l'esigenza dopo questo evento di mettere insieme questi ricordi per costruire un filo del discorso, non soltanto mio personale, individuale, ma anche una storia al femminile, cioè due storie al femminile che si intrecciano. Quella di mia madre, che era probabilmente più emancipata, nonostante forse classe 1932, è più emancipata di molte donne di oggi, è la mia storia, che si incrociano, si intrecciano, due donne che si separano, si rincontrano, per poi trovare un'armonia dopo. Nella parte curata da Ida di anni, i ricordi, le memorie, non sono legati ad una sola persona. La scrittrice, fotografa e fa rivivere, tra le pagine del libro, le vite di persone a lei care, che ne hanno segnato l'evoluzione e la crescita. Ognuna di quelle persone, nella normalità di una vita comune, ha lanciato un messaggio di valori autentici e spesso oggi smarriti. Sono donne che hanno vissuto vite, vite che non sarebbero mai passate alla storia e io e Matilde abbiamo voluto in questo modo che divenissero importanti per noi e per altre donne che vorranno leggere questo nostro libro. Quindi vite normali che diventano straordinarie? Vite normali che assurgono straordinarietà proprio per la loro normalità e io e Matilde abbiamo voluto dare voce a queste donne. Bene, si chiude qui l'ultima edizione del telegiornale. L'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la nostra rassegna stampa. A voi tutti, buonanotte. L'appuntamento è per domani mattina con la nostra rassegnazione. Grazie. 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 Grazie.